Oh Antonella, secondo te non sarebbe orale cambiare il fondo assorbente? E anche dà una spolverata al monitore? Io sono venuto perché era tutto nuovo. Domenica giorno di festa, ma lo è di più. Ogni domenica su ETV Marche e Radio Center Music, dalle 10 a mezzogiorno, quelli del primo piano. ETV, la TV che vi è giù. Ma non è vero. Conducono Cristiano Vaccaroni, Antonella Veroli, Luca Marchetti. Ma che carini. Ogni domenica, dalle 10 a mezzogiorno, quelli del primo piano. Sa. Te odio quando fumi. Vabbè. Dica. Sì. Chiude, beh.